ciao a tutti ragazzi e ragazze qui dal vostro diabotex allora sono qui per un unboxing che devo rifare l'unboxing perché è successo che mentre stavo facendo l'unboxing purtroppo si è bloccato il programma della webcam e quindi ragazzi devo rifarlo che due allora allora vediamo un po è sto allora oggi ecco arriva l'unboxing fresco fresco di grattugia ragazzi di mio non posso grattugiarlo il gioco non posso però diciamo che un po di rumorino cazzo lo facciamo va bene così quindi purtroppo non c'è il cielo fanno perché stavo già registrando l'unbox ma vabbè non ce ne fai un cazzo ragazzi però prima di passare all'unboxing io un attimo da fare ragazzi datemi un attimo tempo perché ho veramente un po da fare anche perché ho fame no quindi ecco vedete buono buono perché allora l'omogenizzato plasmon al pollo ragazzi ok quindi va veramente benissimo veramente buono è perché ha un sapore tutto suono quindi volevo condividerlo con i bimbo minchia però ho detto perché lo mangio io a questo punto ragazzi allora detto questo passiamo questo qui ok perfetto dentro purtroppo c'è il classico foglietto che se per esempio ci vogliamo pulire il culo non basta neanche quindi non serve neanche per cui il ciclo ragazzi quindi possiamo tranquillamente rimetterlo qui e poi passiamo a cover la cover di gioco ecco qui da cover di gioco eccola qui no perché si muove ragazzi un attimo un attimo certo state tranquilli ecco qui la cover di mio solo nella morte troverai la via del samurai e giustamente allora il gioco nei vostri hard disk richiederà 46 giga neanche pochi poi ci sarà anche qualche aggiornamento non so questo non posso ancora saperlo perché ancora installo il gioco quindi allora poi detto un'altra cosa ragazzi me ne dico anche un'altra io non sono un esperto di giochi souls quindi lo metto subito in chiaro la situazione poi vi faccio vedere anche il blu ray nel frattempo ecco il blu ray di gioco di mio perfetto io non sono un esperto di giochi souls però questo gioco l'ho preso perché mi ispira il personaggio l'ambientazione e quindi ho voluto comprarlo voglio mettermi alla prova con questo gioco mi voglio mettere alla prova il problema ragazzi ora di questo qual è che qui non arriveranno gameplay sul mio canale non farò la serie come faccio con altri come terzo per seria più altri titoli lo farò in live quindi farò delle live sul mio canale dove giocherò anni o quindi ogni tanto farò qualche live però comunque il gioco lo inizierò insieme a voi ecco questo posso garantirvelo non so quando ragazzi perché ho veramente tanto da fare lo so voi magari dite ma cosa hai da fare brado ragazzi fidatevi che ho da fare allora vi dico una cosa innanzitutto mangio un altro po di vasetto qui perché ci sta tutto è buono è buono quindi poi insomma gusto pollo ragazzi qualcosa di di buono allora questo è stato l'unboxing di niono e quindi ripeto farò delle live sul mio canale sulla mia pagina facebook avviserò quando partiranno queste live non credo questa settimana e neanche settimana prossima a me non me ne importa un cazzo che altri youtuber hanno iniziato già a fare neo io lo faccio quando dico io ragazzi io sono fuori dal coro inizio il gioco quando mi pare a me insomma così via quindi se l'unboxing vi è piaciuto lasciate un like se il vasetto della plasma un anche vi è piaciuto al gusto pollo lasciatene un altro di like cioè voi li premete cancellate e lo rimettete insomma ricordatevi che il vostro diabo text non è per cattiveria ma perché c'ha da fare e quindi questo è stato l'unboxing di neo mando un grandissimo saluto ad un'amica e non vi dico chi è non ci pensate maremma di quella maiala imprigionata ok è un bacione per la mia amica insomma ecco qua poi 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 ricordatevi che io farò un mio in live sul mio canale seguite la mia pagina facebook e poi ci penserò io a tutto il resto ok voi seguite la mia pagina facebook così vi godete che imprendi nio li avviserò quando iniziano le live per quanto riguarda nio quindi io cercherò di mettermi alla prova su questo titolo vi ripeto non sono esperto ai giochi souls però qui mi ci voglio impegnare un pochettino tra una maremma e l'altra posso fare tutto detto questo il vostro diabo tex vi saluta ci sentiremo con i prossimi unboxing i prossimi gameplay laveremo le calze sporche insieme laveremo le mutande sporche insieme insomma faremo tutto ragazzi vi saluto nio playstation 4 perché è esclusiva e gli altri se ne prendono così insomma appuntamento con le live che arriveranno un saluto a tutti e ci sentiremo con i prossimi gameplay che tranquilli andremo avanti alla grande ciao a tutti al vostro diabo tex alla prossima ragazzi ciao a tutti